Comincia la settimana della tecnologia e innovazione digitale all'interno dell'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Mario Rapisarti di Caltanissetta, nella sede di Viale Regina Margherita. Un'iniziativa questa che viene organizzata in seguito ai risultati ottenuti dai ragazzi dell'Istituto nel corso di una fiera internazionale dell'informatica. Gli studenti delle scuole medie della città saranno coinvolti infatti in laboratori dove gli studenti tutor dell'Istituto Rapisarti illustreranno non soltanto i loro progetti, ma si parlerà ad esempio del mondo della programmazione digitale o ancora delle nuove applicazioni. In occasione poi dell'Open Day verranno esposti i lavori presentati nel corso della settimana. Abbiamo organizzato questa fiera dell'innovazione digitale e della tecnologia perché noi abbiamo l'onore di avere tra i nostri studenti dei ragazzi che sono stati selezionati alla Maker Faire di Roma, una grande fiera internazionale dell'informatica. I nostri studenti si sono distinti per i loro progetti, loro si dedicano in maniera particolare alla progettazione, sistemi in reti, domotica e quindi abbiamo deciso di condividere queste esperienze, questi progetti, questa voglia di fare dei nostri studenti con gli studenti delle scuole medie inferiori. Sono state moltissime le adesioni, tanto che noi ci riserviamo poi di rinnovare altre date, presentare altre date per altre scuole in maniera da accogliere tutte le richieste che ci sono state avanzate. Siamo pienamente soddisfatti perché abbiamo ricevuto anche delle richieste da scuole medie della provincia di Agrigento, da Recalmuto, da Licata, quindi possiamo dire che ci riteniamo pienamente soddisfatti dai risultati ottenuti.